La remedia di Senza Giacca da San Siro, Milan-Salisburgo 4-0, siamo tornati anche in Champions, rivediamo gli ottavi di finale, risentiamo la musichina della Champions anche nel 2023, finalmente, risultato rubuante ma la sofferenza a primo tempo, questi e Salisburgo sono una bella squadra ragazzi, sono una bella squadra, sono tipo il Torino, l'Italanta, ma molto più tecnica, corrono, hanno fatto 14 piedi in porta, sono stordito, scusate, è andata bene, in difesa ballavamo, ma davanti ragazzi siamo stati incredibili, grinta, forza, tenazza, qualità, davanti creavamo sempre pericoli, dietro una sofferenza unica, perché questi non mollavano mai, ci pedevano tutti gli spazi, ma dopo l'1-0 abbiamo sofferto, abbiamo anche andato altre occasioni, ma secondo tempo è nata un'altra partita, è salito in casa appena serie, hanno lasciato spazi, finalmente abbiamo sfruttato ancora di più le fasce laterali, Piolli l'ha capito da sotto queste squadre cosa succede così, e soprattutto Rade e Cronici, uno dei migliori del campo, sempre distrattato, ma la gente non capisce quanto è utile da una parte del campo, anche l'altra, tutti passaggi utili e anche un gran big goal, con Oliviero lo Spardiero che ne fa due, più l'assist a Cronici, più de Messias al novantesimo, dopo che abbiamo rischiato comunque di prendere qualche gol, perché loro non mollavano mai, però ci siamo, un bel risultato, una bella vittoria, una svolta importante per la stagione, bravi tutti tranne la coppia centrale intensiva Chiare e Tomori che dormiva, un ottimo Calulu, veramente che ha salvato la palla nel primo tempo e poi sempre un positivo, dai bravi tutti, le house con ribande da parte all'altra, se fosse decisivo come va bene in area, mi serve veramente un fenomeno. Ragazzi ci vediamo a febbraio, adesso con la Champions, concentriamoci sul campionato perché sabato c'è la brutta Mila Spezia, che dobbiamo assolutamente vincere per recuperare il terreno anche lì, da San Siro è tutto, per i Senza Giacca un saluto e sempre forza mia.